Buongiorno, siamo su Radio Sancara, io sono Serena Secchi, questo è Tabù e Tatù e siamo in collegamento speciale adesso con Francesca Trasatti dall'Ungheria dove si è svolta stamattina l'udienza di Ilaria Salis. Francesca Trasatti che vi presento è coordinatrice nazionale di Potere al Popolo ed è avvocata osservatrice per il CRED, il centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia e ha partecipato all'udienza del processo contro Ilaria Salis. Francesca buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Ciao, ciao. Cosa puoi dirci? Allora l'udienza è stata bella tosta nel senso che vabbè a parte stamani c'erano gruppi di estrema destra davanti al tribunale, insomma ci dicevano cose in ungherese che il traduttore ci riferiva a essere minacce, quindi il clima è partito subito da stamani mattina, bello caldo. E poi l'udienza era semplicemente sulla questione cautelare, quindi sul fatto che lei debba rimanere in carcere, è rientrata in aula con le solite catene, con i soliti sceppi ai piedi e la cintura con tanto di agenti con passamontagna come all'udienza scorza e di fatto la decisione è stata quella di tenerla in carcere con una motivazione anche abbastanza preoccupante perché sostanzialmente si dice che siccome l'accusa è molto grave, siccome è possesso della società transnazionale, allora lei rappresenta un pericolo per la società, quindi era stato chiesto dalla difesa stamani, era una misura cautelare diversa dal carcere, i domiciliari, era stato richiesto sia i domiciliari in Italia come prima richiesta, ma come seconda era stata richiesta anche i domiciliari qui a Sudac, in Ungheria, quindi era stata reperita una casa, Ilaria aveva un lavoro che avrebbe potuto svolgere da casa in modalità online, quindi avrebbe potuto mantenersi, c'era la disponibilità della famiglia e degli amici di sostenerla, di aiutarla, quindi anche la possibilità appunto che non uscisse proprio di casa aveva dato il consenso all'utilizzo del brazzoletto elettronico, quindi comunque si era messa nella condizione di poter essere assolutamente sorvegliata anche dallo Stato ungherese con un domicilio qua in Ungheria con tutte le caratteristiche tali per cui la misura potesse essere accolta. Comunque si è fatta già tredici mesi di carcere e stamani ho stato detto in aula che tredici mesi di carcere a fronte di quello per cui mi è accusata non sono tanto, quindi sostanzialmente quello che abbiamo con questa mani è che fino a che non sarà, questo che non sarà, questo è evidente, direi che lei resta in carcere perché è risenuta così, non si è risaluta e perché c'è l'acqua oppure che non possa scappare a nascondersi. È veramente una situazione distopica, credo che non ci siano altre parole. Ora noi da qui dall'Italia abbiamo appena letto appunto un'oretta fa che le sono stati negati come ci hai spiegato tu i domiciliari. Come sta Ilaria? Come l'hai potuta vedere tu? Eh Ilaria stamani era abbastanza tesa, sempre comunque sorridente, comunque affronta tutto con grande forza, con grande coraggio, però era abbastanza tesa che i cittadini era un'udienza da cui si capiva anche appunto se c'era margine di esercitare un diritto di difesa, se si poteva sperare anche dopo il clamore mediatico dell'udienza scorsa in un processo giusto e oggi invece abbiamo avuto la conferma che si tratta di un processo politico che comunque quello del pugno di ferro con Ilaria è una scelta che viene proprio dal governo, dalla politica di mostrare che cosa succede se uno si pone in termini di antifascismo, in termini se viene in Ungheria a contestare appunto determinate dinamiche, fermo restando che è tutto da provare, è tutto da dimostrare, quindi quello Ilaria si è dichiarata innocente, quindi il processo si deve fare, i fatti verranno eventualmente accertati o non accertati, ma oggi si doveva parlare della misura cautelare del carcere, se era necessario, se era strettamente necessario che Ilaria rimanesse in carcere e le decisioni che sono state prese, le motivazioni che hanno portato a queste decisioni e comunque di insistere su questa anche modalità proprio visiva di farla vedere in catene dimostrano proprio la portata politica di questo processo e danno a noi italiani anche il senso di un abbandono di Ilaria anche da parte del governo italiano. Senza ombra di dubbio, il clima com'era in in sala? Allora nelle aule eravamo divisi, nelle aule eravamo divisi, noi non abbiamo potuto partecipare all'aula in cui lei era fisicamente perché c'era sostanto la famiglia e il difensore e giornalisti, era un'aula strappiana di giornalisti. A noi hanno messo uno schermo in un'altra aula, quindi il clima dell'aula di fatto da noi non si è percepito, però ecco le immagini sono state quelle della volta scorsa parlando dopo con Roberto e con Roberta, con il padre e la madre di Ilaria ci hanno detto insomma che era appunto anche questa volta con queste modalità super controllanti, con questi esenti col passamontagna intorno che non poteva essere toccata, le hanno chiesto se potevano darle dell'acqua, non ha potuto prendere acqua dagli altri, tutta una serie di misure veramente punitive perché non hanno alcun significato se non quello di punire e umiliare. Ecco, quando noi abbiamo fatto l'intervista con Roberto Salis ci aveva spiegato tutta la trafila anche molto difficoltosa dell'andare a incontrarsi insomma con le richieste fatte dal giudice quanto alla preparazione per eventuali arresti domiciliari e quindi è stata molto difficile reperire la casa con tutte le condizioni fatte, ma quanto è stato velleitario a questo punto? Nel senso... Eh no, è quello che... Esattamente questo, cioè quello che ci lascia addosso l'udienza di oggi è proprio un senso di impotenza, nel senso che comunque i requisiti per poter sperare in una modifica della misura nei domiciliari qui in Ungheria erano abbastanza complicate, ci voleva il lavoro, un lavoro per cui non uscisse, un lavoro retribuito, ci voleva un immobile che non è stato per niente facile trovare qualcuno che lo appicchasse perché qui il clima è... Mentre comunque in Italia c'è stata la legittima indignazione per le immagini che abbiamo visto e che abbiamo rivisto anche stamani, qua in realtà sono circolati anche proprio nei telegiornali immagini di persone aggredite, interviste a fantomatiche vittime, tutto così sulla televisione senza il minimo contraddittorio e quindi il clima è stato montato ad arte proprio per dipingerla proprio come colpevole e quello di stamani ecco, ha confermato le peggiori prospettive perché nonostante fossero riusciti poi a trovare tutti gli elementi, a incastrare tutti i tasselli per cui si poteva magari avere anche una motivazione in cui si diceva che il tempo trascorso non era sufficiente ma che si poteva... Invece la motivazione è stata proprio relativa al capo di imputazione quindi quando si motiva sulla gravità dell'accusa una esigenza catelare il fatto che lei rappresenti un pericolo e che ci sia il pericolo che lei scappi dà la dimensione che appunto finché il processo non sarà finito sarà molto difficile che cambi qualcosa perché tutti gli elementi che potevano essere portati sono stati già portati per riuscire a fare qualcosa di un po' di diverso è praticamente difficile da immaginare l'unico saggio proprio perché si tratta di un processo politico è che si muova la politica nostra che si inizia a difendere quella che è una cittadina italiana che si fa un rispetto gravissimo in un paese che è dentro l'Unione Europea poi quello che è grave è anche questo Sì, dovrebbe muoversi la politica italiana dovrebbe muoversi il nostro governo anche se sappiamo che dal governo le frasi che arrivano sono veramente angoscianti perché si tende a non voler dare la reale importanza alla situazione a non metterla nel suo contesto politico che invece è rappresenta e evidenzia tutta questa situazione veramente intollerabile abbiamo letto anche le dichiarazioni la tendenza è quella a minimizzare a farsi da parte quasi vediamo facciamo fare il soccorso alla giustizia non si considera che quello a cui stiamo assistendo è un processo che non è all'interno delle regole di uno stato di diritto ma che l'Ungheria sia condannata un giorno e se un giorno no comunque dagli organismi europei per la violazione dei diritti umani è chiaro a tutti a tutte quindi è proprio anche un nascondersi di attrondito non voler affrontare una situazione con frasi anche abbastanza di circostanza che non entrano poi nel merito politico e giuridico di quello che è necessario fare perché ecco se quella di oggi era uno spartiacqua e se c'era la possibilità di provare a vedere un processo che appunto stesse all'interno degli argini del giusto processo quella di stamani ha confermato che no c'è da intervenire con altre modalità perché siamo completamente fuori da quello che è lo stato di diritto e il giusto processo anzi esula proprio esula completamente ora abbiamo letto che le dichiarazioni del vicepremiere ministro degli esteri Antonio Tajani che è proprio intervenuto dicendo che va bene non c'è pericolo non crede che ci sia pericolo di fuga però eviterebbe di pubblicizzare di politicizzare il caso se no si rischia lo scontro ha detto anzi è proprio questa la cosa su cui puntare va politicizzato è un caso politico il tema è che siamo già all'interno di uno scontro quello che sfugge a Tajani è che siamo già nel bel mezzo di uno scontro e che l'Italia non sta facendo niente anzi si sta chiamando fuori la prossima udienza chiaramente siamo sotto elezioni europee sia per l'Italia che per l'Ungheria e chiaramente il bacino elettorale a cui vanno a chiedere voti è certamente un bacino elettorale che non ha l'antifascismo come valore fondante forse forse anche quello un altro dei problemi su cui dovremo riflettere oggi ecco la cosa è veramente sconcertante perché qui non si tratta soltanto di antifascismo ma si tratta anche di antinazismo e noi come rete come Radio Sankara riteniamo fermamente che essere antinazisti rappresenti un dovere costituzionale e queste affermazioni del ministro degli esteri ci lasciano veramente molto sconvolti poi abbiamo letto in queste ultime ore della possibilità ad esempio del PD voci interne dicono che ci potrebbe essere la possibilità di candidarla anche se sappiamo benissimo tutti che l'area di appartenenza politica di Laria Salis non si rivede nelle schiere del PD decisamente lontana decisamente molto molto lontana però ecco come bisognerebbe procedere a tuo avviso ma sicuramente sollevare una questione parlamentare sono in Parlamento più che candidarla fare interrogazioni parlamentari al ministro della giustizia al ministro degli esteri e capire che cosa può e deve fare il governo si tratta appunto per quanto riguarda la misura cautelare di un pericolo di fuga pericolo di fuga è possibile che due stati non siano in grado di sventare un pericolo di fuga con eventuale braccialetto elettronico controlli eccetera e che non si riesca a trovare un modo per toglierla dal carcere nel mentre che viene celebrato il processo nessuno dice che si debba non fare il processo però quello è un altro piano cosa può fare invece ogni cittadino italiano per questo mobilitarsi mobilitarsi e farsi sentire far uscire far sentire appunto che questa ingiustizia che sta stupendo Ilaria è un'ingiustizia che sentiamo tutti e tutte ecco invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a collegarsi poi con le pagine social di Radio Sankara dove abbiamo pubblicato questa mattina un documento nel quale dichiariamo che riteniamo doveroso mantenere alta l'attenzione su quanto sta subendo Ilaria Salis adesso in Ungheria dopo 13 mesi di carcerazione in uno stato inumano incompatibili con uno stato democratico e anche con le convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti delle persone detenute molte associazioni hanno molte associazioni locali hanno aderito al nostro comunicato ne daremo poi contezza anche tramite gli organi di stampa e invitiamo tutti quanti si riconoscono in queste parole a contattarci a sottoscrivere questo documento Francesca Trasatti io ti ringrazio tantissimo a nome di tutta la redazione ma anche a nome di tutte le persone che si rivedono in questi concetti importantissimi di democrazia di antifascismo e di antinazismo perché anche quello che tu stai facendo è veramente un grande apporto e servono molte persone come te siamo in un momento abbastanza pericoloso perché quelle che erano conquiste e valori che davamo per scontati per assodati che dovrebbero essere la base delle nostre società subiscono sempre più spesso sempre più frequenti attacchi e bisogna che la risposta sia collettiva che ci sia una risposta forte e chiara perché è un momento in cui bisogna ristabilire un attimo quelli che sono appunto i valori fondamentali su cui abbiamo fondato e vogliamo continuare a fondare le nostre società Francesca grazie ancora ti lasciamo alla tua giornata tu ora sei a Budapest immagino che non sia stato nemmeno facile collegarti e dedicarci questo tempo ma te ne siamo veramente infinitamente grati va bene poi ci rivediamo alle prossime mobilitazioni in Italia benissimo grazie e buona giornata Francesca grazie a te ciao ringrazio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e tutta la redazione di Radio Sankara che in questi giorni si è prodigata proprio per poter mandare un messaggio più possibile di vicinanza a Ilaria Salis e per mantenere proprio alta l'attenzione su questa terribile situazione molto molto preoccupante è importante terminare ricordando anche che le accuse mosse nei confronti di Ilaria Salis sono emerse in un contesto di grande tensione politica in Ungheria dove ogni anno gruppi di neonazisti organizzano dal 1997 la giornata dell'onore per chi magari non la conoscesse è un raduno neonazista che si tiene ogni anno proprio con lo scopo di celebrare quella che a loro avviso era un'eroica resistenza dei militari nazisti tedeschi e dei loro alleati ungheresi durante l'assedio di Budapest da parte dell'armata rossa concludiamo questa trasmissione chiedendo proprio l'apporto la vicinanza e l'adesione a questo nostro documento da parte di tutte le persone che ci stanno ascoltando e che si rivedono in questi ideali buona giornata grazie a tutti grazie a tutti